Buonasera, benvenuti al Bookshelf Tour seconda parte. Faremo queste quattro librerie. Iniziamo subito così non lo faccio tanto lungo là. Vabbè, a parte le principesse di Sosoco, abbiamo la sezione di Venezia. Abbiamo La spia del doge, Loredana e i misteri di Venezia, Luci sulla mia città, quindi un saggio su Venezia e il cinema, I giorni della rocca, non riesco a leggere il titolo, L'autore, L'arte segreta e i rimedi del cuore, Il mercante di Venezia, che non è quello di Shakespeare, ma è di Riccardo Calimani, Vetro di Giuseppe Furno, Il grimorio di Venezia di Michelle O'Vrich, Gli inganni di Locke Lamora di Scott Lynch, non c'è scritto che è Venezia, ma le descrizioni indicano secondo me che è Venezia, L'apprendista di Venezia di El Newmark, di Alberto Ungaro, La partita, di Litti della Laguna, Il ritorno di Casanova di Arthur Schnitzler, Gervaso Casanova, L'apprendista di Venezia di El Newmark, che è l'edizione economica di questo, di Arnaud de la Land, La trappola di Dante, Alda Monico, Delitto al Casin dei Nobili, questo è I fantasmi di Venezia, 17 leggende del brivido della laguna, La tela del doge di Paolo Forcellini, L'ereditiera veneziana di Fulvio Tomizza, e poi Due di Landocca ambientati a Venezia, Oddio, scusa, Sotto abbiamo di Guillaume Mousseau, Quando si amano scende mai la notte, L'occultista, Il segno dei due, che trattano la stessa storia, questa è di Alice Walker, Non puoi tenere sottomessa una donna in gamba, Ragazza nera, Ragazza bianca, di Thomas Hardy giù dello scuro, Dead Man Walking di Jim Thompson, The Killer Inside Me, Il Ghost Writer di Robert Harris, Filomena, Voglio la tua morte di Peter James, di Bram Stoker, Le Vergini del Sudario, Viviano Domenici, Altri Naufragi, Quando parlavamo con i morti, La Bella e la Bestia, Una favola steampunk di Elena Mandolini, Biancaneve e zombie, Sempre di Elena Mandolini, Una raccolta di Topolini e i signori della Galassia, La saga stellare completa, E questo è un libro con cui ci devo fare un progetto, Sotto abbiamo, Bridge Jones, Quindi un amore di ragazzo, Olivia Jules, Sempre di Ellen Fielding, Il diario di Bridge Jones, Che pasticcio Bridge Jones, Mi manca l'ultimo praticamente, Bridge Jones Baby, Poi abbiamo la saga fantasy, Che è l'ombra del torturatore, L'artiglio del conciliatore, La spada del lettore, La cittadella dell'autarca, E Gene Wolfe, Urte del nuovo sole, Purtroppo non l'ho trovata in questa edizione, Questa è una saga del, Io l'ho scoperta nel 94, E a 12 anni lessi il secondo, E scoprì una volta finito il secondo, Che era una pentalogia, E quindi mi misi alla ricerca, E l'ho conclusa, Questo l'ho comprato a novembre, L'ho trovato, Dello scorso anno, Insomma, Questo è l'interrogatorio di Liad Shoham, E poi partono i Mark Levy, Che come vedete mi piace molto, Quindi dove sei, Se solo fosse vero, Mi mancano gli ultimi di Mark Levy, Se potessi rivederti, La prossima volta, Amici miei e miei amori, Sette giorni per l'eternità, Quello che non ci siamo detti, Ma questo mi è piaciuto tanto, 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 La chimica segreta degli amori, No, scusate, Degli incontri, Sulle ali, I figli della libertà, Non ce la posso fare, Ascolta la mia ombra, La prima stella della notte, Il primo giorno, Lo sparo, Se potessi tornare indietro, Sotto abbiamo, Vabbè, Dele videocassette di Kenny il guerriero, Lupin III, La leggenda dell'oro di Babilonia, Il ritorno di Lupin III, Ricco tramonto a Rio, Il film di Amadeus, Tra i nostri preferiti, La videocassetta di Beavis and Butted, I delitti di uno scrittore imperfetto di Mikkel Birgkard, Che ancora devo leggere, E la dissoluta di Alexandra Lapierre, E questa è una scatola portabiscotti, Che doveva essere mia, In realtà è di Sosò, Sotto abbiamo gli accessori di Barbie, Una macchina da cucire, Insomma, Di Sofia, Insomma, Per bambini, E i focus, Che riguardano il trono di spade, Venezia, Magari le cose, Il Titanic, Le cose più particolari, Che ancora devo leggere, Sempre un ripiano di Venezia, E sono i doggi, Storie e segreti, Storia della mia fuga dai piombi di Casanova, Venezia libertina di Silvino Gonzato, Il re dei ladri di Cornelia Funche, Alessandro Barbero, Che io prima o poi riuscirò a leggere, Gli occhi di Venezia, Di Valerio Massimo Manfredi, L'isola dei morti, Riccardo Calimani, Venezia, Passione e potere, L'ombra delle leone di Steve Barry, San Marco per sempre di Alvise Zorzi, Siamo solo amici di Luca Bianchini, La bottega degli specchi magici, Di Kai Mayer, Che è per ragazzi, L'amante senza fissa di Mora, Di Frutterro e Lucentini, Morte nel quartiere veteziano, Di Alan Gordon, Il fiore d'oro, Di Cardini e Gori, La taverna del doge Loredan, Di Ongaro, Il ponte della solita ora, Di Ongaro, E l'amante del doge, Di Carla Maria Russo, Più abbiamo, Sentimento veneziano, Questo mi è piaciuto tanto di Harmony, Ci sono anche delle, All'inizio di ogni capitolo, Ci sono le brevi spezzoni, Delle poesie di Lord Byron, Anonimo veneziano di Berto, Misteri veneziano, Misteri veneziani, Invece questo è una cavolata, Questo, Lo tengo solo per la copertina, Fuga da Venezia, Di Salvalaggio, I tre amori di Casanova, Che non ho capito di chi sono, Comunque, Ah sì, A cura di Giovanni Comisso, Memorie, Scritte da lui medesimo, Che però arrivano, Credo, Fino solo agli anni venti, Credo, Non mi vorrei sbagliare, Insomma, Non è completa, Di Tiziano Scarpa, Venezia è un pesce, Memorie di un bugiardo, Qui abbiamo, Vabbè, Amici cucciolotti, Che sono cose di Sosò, Abbiamo una tavolozza coi colori, E la pittura a Venezia, Finita Venezia, Giuro, Qui abbiamo, La tredicesima storia, Di Satterfield, Gotham, Il diabolico viaggio, Ora, Di tutti questi, Sono quasi tutti da leggere, Quindi non vi spaventate, La donna che rubava i mariti, Nel senso, Non so spaventata io, Quindi neanche voi, Vi dovete spaventare, La donna che rubava i mariti, Della Atwood, Di Schatzing, Il mondo d'acqua, La corte dei Borgia, Di Giancarlo Gritis, Questo però l'ho letto, Il club delle ex mogli, Di Olivia Goldsmith, L'ho letto, Qui sotto c'è un inedito, Di Margaret Mitchell, Quella di Via Colvento, Che è l'isola, In fondo, Al, Oddio, Metti a fuoco al mare, Che ho letto anche questo, L'unica cosa, Sono un disordine, Quindi mi rispecchiano ampiamente anche questi, Hamburger e miracoli, Sulle rive di Shell Beach, Di Fanny Flag, Una volta nella vita di Timothy Lewis, Di Franz Schatzing, Il diavolo nella cattedrale, Prosegue con David Levitt, La trapunta di marmo, Piccoli suicidi tra amici, Sì, Isabella Yen, Del gioco di Ripper, Piesa l'ho view della Ahern, Di Robert Crace, A caccia di un angelo, Sepulve da Trilogia dell'amicizia, Storie del, Non lo riesca a lei, Del Bosco Antico di Corona, Della Yende, Paola, Il Libraio di Kabul, Il Club di Umà, Di Arturo Reve, Perè, Revert, Buchi nel deserto, Di Luis Sachar, Rebecca, La prima moglie, Della Dumourier, La mia famiglia, Altroriori di Safier, Miss Alabama, La casa dei sogni, Pane, Cosa e Cappuccino, Ok, Poi qui abbiamo Deakins, Racconti polizieschi, Un estratto, Insomma, Del libro dei racconti polizieschi di Deakins, La bussola d'oro, Queste oscure materie, Qui abbiamo, 12 racconti di Natale, Di Jeanette Winterson, Un regalo, Marisa Ragnari Panetta, Vesuvius, E di Lonsdale, Una coppia perfetta, Sotto, Continuiamo, Con Giovanni Ricciardi, Il dono delle lacrime, Il cammino di Santiago di Coelio, L'elettrice golosa di Cara Nicoletti, Poi abbiamo, Di Godwin, L'albero dei giannizzeri, I borgia di Dumas, Se una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino, Dave Eggers il cerchio, Scuola di magia di Michael Hand, Michael Hand, E poi abbiamo Dan Brown, Quindi il simbolo perduto, La verità del ghiaccio che non è di Robin Landon, Quindi Angeli e Daemon, Il codice da Vinci, Cripton, Inferno e Origin, E sono a pari, Questo è un libro che usa Sofia, Un quaderno che usa Sofia per giocare alla scuola, Il lapidinto delle streghe della Calogridis, Il cannocchiale d'ambre, La magia e la lama sottile, Ancora non ce lo fa nato, Perché sennò mi si impolvera, Vittor Hugo contro la pena di morte, Lisa C, Fiore di neve e il ventaglio segreto, Alice in Zombieland, Le 12 domande quindi The Millionaire, Che c'è anche il film, Pippi Calzelunghe, Il giardino dei segreti di Kate Morton, L'assassino del marai di Claude Izner, George Orwell nel ventre della balena, I tuoi occhi viola di Stephen Woodward, Vassali, la chimera, McEwan, i bambini nel tempo, Poi, Allora, Quello che gli altri non vedono, La trilogia di Charlotte Link, Quindi Venti di tempesta, Profumi perduti, Una difficile eredità, E non so se questo è il, Mi pare che questo è l'ordine giusto, Poi Cigni Selvatici, E i primi due, Quindi quattro libri, De La spada della verità, Volume 1 e volume 2, E poi Anna Carienina, I grandi gialli, I grandi gialli della storia, Che è uscito con Focus, Poi abbiamo La bottega dei cuori golosi, Wilkie Collins, La pietra di luna, Delitto a Ospreis, La vita è una crostata di frutta, Valerio Massimo Manfredi, Questo dovrebbe essere SPQR, Magia Nera, E di Dickens il circolo Piquic, Poi abbiamo La corporazione dei maghi, Di Trudy Canavan, Solo il primo perché voglio vedere com'è, Sashenka, Il mulino dei dodici corvi, E la tonsillite di Tarzan, Più sotto, Non ce la posso fare, Allora abbiamo, Il cavaliere dei draghi, Di Cornelia Funke, Il libro dei ricordi perduti, Fuochi fiammanti, Il detective che ama i libri, Il seggio vacante della Rowling, L'invito di Ruth Weir, London di Rutherford, Che vi ricordate erano tutti nell'altro bookshelf tour, Qui sopra abbiamo, Oh, Le ragazze del rosario, Ecco dove era finito, L'impero dei lupi di Granger, Poi abbiamo Di Jotipicool, Il colore della neve, Pasta killer, Giallo uovo, Qui abbiamo, Le radici del male, Di Maurice Dantec, Sabotaggio d'amore, Di Amelino Tomb, Queste sono le ricette di Nefertiti, Che è una sorta di presa in giro, Su tutti i Masterchef che ci stanno adesso, Assassino tra i due druidi, E The Game, Poi qui abbiamo, Gli spostati di Arthur Miller, C'è un maschio nel bagno delle femmine, L'uomo di neve di Gionesbo, Di Agatha Christie, Praticamente ritratto incompiuto, E queste di O. Harry, Che non so cosa è una raccolta di tre o quattro racconti, Che sono sia in inglese che in italiano, Ancora devo leggere. Ok, Dunque, Qui abbiamo, La serie che era L'arte è come un romanzo, Di cui avevo iniziato, Volevo leggerli tutti e farvi la recensione, Poi mi sono bloccata al secondo, Ma non è detta l'ultima parola, Insomma, La ragazza in blu di Susan Vreeland, La dama con l'ermellino, Almen e le dalie, L'apocalisse con figure, Chi ha rubato Cezanne, Il pittore e la ragazza, La cupola del Brunelleschi, Concerto di una sera d'estate senza poeta, La donna col vestito verde, Il turchetto, La tavola fiamminga, Raffaello, I volti segreti di Giotto, Il mago della luce, La pista Caravaggio, Matrimonio degli opposti, Poi, L'ombra di Artemisia, La lunga attesa dell'angelo, Vermeer, Vermeer, No, Vermeer credo, Il quadro segreto di Caravaggio, Schiava di Picasso, L'uomo nel quadro, L'enigma di Leonardo, L'ombra del Caravaggio, La venere di Salò, Oh madonna mia, L'airone di Guernica, Di Guernica, Scusate, Il segreto degli ambasciatori, Il sogno del principe, Il pittore e la pulzella, Il ragazzo di Bruges, Monuments Man, Che ho già letto anche in un'altra edizione, La ladra della primavera, Mi manca solo il numero 20 di questa collezione, Che purtroppo non siamo riusciti a farlo con Andrea, La croce, La spinge, Renoir, Mio padre, In più qui abbiamo di Patrick Dennis, Intorno al mondo, Cozia Main, Un regalo stupendo, L'altro ce l'ho da un'altra parte, Il primo, Che l'ho letto ed è meraviglioso, E poi povera piccina di Patrick Dennis, Sotto abbiamo, Un jukebox, Perché non ci può mancare, Ancora funzionante tra l'altro, Allora, Abbiamo, Da amante di Gialli, Mamma, Appassionata, Oddio, Appassionata di Agatha Christie, Anch'io, Ho iniziato con Agatha Christie e Sherlock Holmes, Quindi, Alla deriva, Il caso del dolce di Natale, Il pericolo senza nome, Aiuto Poirot, Dio non leggo, È un problema, Il segreto di Chimneys, Senti i pollici che prudono, Tommy e, Tappens in due sindaga meglio, Avversario segreto, La sagra del delitto, Poirot e I4, L'assassinio di Roger a Croyd, Che questa è la bomboniera di Valeria De Vito, Io però l'ho sfatta giù Valeria, E l'ho messa qua insieme a tutti gli altri, Le fatiche di Hercule, Senti i pollici che prudono in quest'altra edizione, Ah, Vi dice lo doppio, Verso l'ora zero, Dexere il delicato, Che non senta niente qua, Ma sta qui, Poi abbiamo Porono sbaglia, Poker d'assi, Dove ci sono i quattro, E di cui di questo ho letto, Dieci piccoli indiani, Quindi l'ho letto in questa edizione, Quando ero giuvinciella, Miss Marple, Nemesi, C'era una volta sempre di Agatha Christie, Macarbo Quiz, Non c'è più scampo, E questi sono i miei primi tre Agatha Christie, E non li darò via, Ma neanche mai, Neanche mai non si dice, Ma io lo dirò, E il mio primo, Assassinio sull'Orente Express, E un messaggio dagli spiriti, Che non sono mai riuscita a continuare, Perché all'epoca lo trovai troppo lento, Ma lo dovrei rileggere, E il misterioso signor Queen, Nei luoghi oscuri della Gillian Flynn, Il prigioniero del cielo di Zafon, Separato dagli altri, Via col vento, Il vassardo della regina, Il mandolino del capitano Corelli, Morti di carta, Più abbiamo, 1 e 2 di Chart Dickens e Christmas Carol, Sia in inglese che in italiano, Poi abbiamo, Tramonto di un cuore, Che forse è quello che mi è piaciuto di meno di Zweig, Poi abbiamo, Oddio non vedo ragazzi, La signora delle camelle, Lady Susan, Storia di una capinera, Questi l'ho letti tutti, La novella degli scacchi, Che mi è piaciuta tantissimo, La leggenda del santo bevitore, Love story di Seagal, Cazzeie, Quindi il romanzo di Occhi di Gatto, Noi ragazzi dello zoo di Berlino di Christian F, Casa Howard di Forster, Il principe dei ladri, Michael Crichton, Crisi di emergenza, Che da questa è stato tratto la serie televisiva I.R., Di cui sono ancora tuttora un'appassionata, Guardate in che condizioni verte, Requiem per una monaca di Faulkner, Di Crichton, Il mondo perduto, E Jurassic Park, Il primo e il secondo, Poi, 50 e 50 killer, Il mistero di Vombulo, Poi abbiamo, Torri di Buckerton, Nero Oceano, Saremo come dei, Il club di Meryl Streep, Dice che ha a che fare con il film Mamma Mia, L'ho preso un po' perché parla di Meryl Streep, E nominava Mamma Mia, Ci vuole poco, La mia suocera beve, Erebos, Questa me l'aveva inviato con The Game, Sebastiano, La voce segreta dei corvi, La vera serie di Babbo Natale, Quello che non uccide Millennium 4, Il orologioio di Everton, L'ultima possibilità che do a Simenon, Attenzione, Sebastian Barry, Il segreto, Regalato mi da Simona, Poi abbiamo, Antea di Rebecca Mazzarella, La ragazza dei sette nomi, La libreria degli amori inattesi, Non dite niente, Lo so, Libro 3, De 1Q84, La chiave del tempo di Anne Fortier, Orgoglio e pregiudizio zombie, Le prime 15 vite di Harry August, La trilogia Io Cleopatra, Che è praticamente di Margaret George, Che è la stessa autrice dei Re, Il suo giullare, Questa è stupenda ragazzi, È romanzata ma è bellissima, E qui abbiamo Il padre della sposa, In più abbiamo, La lingua batte, Dove il dente duole, Prevente le parole sbagliate, Come si dicono realmente, Il suo giullare, La casa della gioia, Della gioia di Edith Wharton, E la collina dei conigli, Reparto Neri Pozza, La falsaria di Shapiro, Più abbiamo tutti Neri Pozza qui, La nonna vuota il sacco, L'assassinio di Florence Nightingale Shore, Ogni cuore umano di William Boyd, Mare di Papaveri, La lieve e l'apicultore che parla di Sherlock, Quando cadono gli angeli, Il serpente dell'Essex, Londra, Più abbiamo, Storia d'inverno, Shantaram, L'ombra della montagna, Guardate quanto sono belli, Aspettate che non ci arrivo, La promessa dell'alba, Il palazzo degli specchi, Le quattro casalinghe di Tokyo, Più, Caro signore M, La cena, Sempre di Herman Koch, E Imerose di Edward Sten Taubin, E credo che manchi, O l'ultimo, Gli ultimi due, Tutti e quattro qui dentro i romanzi, Credo manchi l'ultimo, Più abbiamo, Quasi paura a dirvi tutti i titoli, La bibliografia di Guareschi, E partiamo con, Lo zi Baldino, Vita con Joe, Baffo racconta, Il destino si chiama Clotilde, Don Camillo e Don Kiki, Don Camillo semplice, Il grande diario del 43-45, Più, Il breviario di Don Camillo, Don Camillo della Bassa, Il marito in collegio, L'anno di Don Camillo, Piccolo, Mondo borghese, La calda estate del pestivore, Corririno delle famiglie, Don Camillo e il suo gregge, La scoperta di Milano, Ciao Don Camillo, Il compagno Don Camillo, Chico e altri racconti, Osservazioni di uno qualunque, Chi sogna, Nuovi gerani, Il ritorno alla base, Diario clandestino, No, Non l'ho letto questo, Poi abbiamo, Il fattoria degli animali di Orwell, Io so cresciuta con Don Camillo, Quindi sono stata contenta che, Andriamo ha fatto la collezione di Guareschi, Insomma, Memorie di una geisha, Di Golden, Ragazzi, Guardate che edizione vintage, Vedete, Io leggevo queste edizioni qua, Chi era fissata, Come fai a essere fissata con le edizioni, Però mi piace tantissimo, Uomini altegame, Questi sono libri che mi sono stati regalati, Settimana nera, Non lo so, Mi ispirano, E quindi me li sono tenuti, Poi abbiamo, La fabbrica del sorriso, Sesso fai da te, E, Madre Teresa, Fratello fuoco, Madre Terra, Fratello fuoco, Ultima, Libreria, Per quanto riguarda questa parte del bookshelf tour, Ci sarà una terza parte, Non so quando, Ma ci sarà, La caffè o manzia, L'arte della divinazione con i fondi dei caffè, Quando ero piccola, Mi ero appassionata ai cinque, A la lettura della mano, Ai tarocchi, E, La caffè o manzia mi mancava, E quindi l'ho presa su bookmucce, Qui se vedete abbiamo due reperti archeologici, Guarda, Questi, Chi ha delle età mia ragazzi, Sono dell'82, Li conoscete, E poi, Cioè, E vabbè, Gli ultimi reperti, Superstiti di Musica 7, Allora, Collezione di Geronimo Stilton, Di Sosò, Abbiamo i grandi classici, Secondo Geronimo Stilton, Quindi, Il giro del mondo di 80 giorni, Sono il tesoro, 20.000 leghe sui mari, Zanna bianca, I viaggi di Gulliver, Il moschettieri, Moby Dick, Robin Hood, Le avventure di Robinson Crusoe, Il meraviglioso mago di Oz, Le avventure di Tom Sawyer, Piccole donne, Richiamo della foresta, La spada nella roccia, Libro della giungla, Sandokam, Le tigre di Montparchem, Peter Pan, Piccole donne crescono, Yolanda, La figlia del corsaro, Il mistero di Frank, Stein, Alice nel paese delle meraviglie, Avventure di Pollyanna, Il giardino segreto, Heidi, Le più belle, storie dei fratelli, fiabbe dei fratelli Grimm, Cioè, posso va? Le più belle, fiabbe dei fratelli Grimm, Canto di Natale, Anna dai capelli rossi, Le avventure del corsaro nero, Le avventure di Sherlock Holmes, Avventure di Artù, Volume 1 e Volume 2, In più abbiamo tre di Wilkie Collins, che stanno qua su, non so perché, Antonina, La donna del sogno, scusate, Enigma di Wilkie Collins, in attesa di essere letti, insieme alla pietra di luna, qui vabbè, vari libri, in più c'è Il libro del terrore, i libri dei pirati, questi sono quei libri, da trovare gli oggetti, poi La vita con Gesù, e l'Atalante Geografico, che sono quelli, diciamo, vecchi vecchi, di quando praticamente andava a scuola mio padre, ecco, erano state fatte delle cose in uscita in edicole, se le ha comprate, più, I libri della tempesta, e Promettimi che sarai libero, di Molist, Colpa delle stelle, di John Green, l'ho letto, per ora è l'unico dell'autore che mi è piaciuto, L'incredulità di Padre Brown, Il maestro e Margherita, Il club delle ricette segrete, Il tredicesimo dono, di Joanna Ewist Smith, Observatory Mansion, di Edward Curry, di Morgan Laiwellyn, la saga di Finn McCool, l'ho preso per la copertina, vi faccio vedere la copertina, e poi dite se Angela ha dei grossi problemi, parla dell'Irlanda, è bellissima, qui abbiamo un libricino piccolissimo, che mi è stato regalato da Valentina, di Book Addicted a Natale, Racconti di Diavoli, e una favola, di Robert Stevenson, ce la posso fare, andiamo di qua, poi abbiamo la strada di McCarty, e, scusate, il diario di spezie, di donati, e osservazioni sulla tortura di Barry, qui abbiamo Il cuoco del Papa, di Che ti magni, ogni volta ci muoio, Anima, di Mouwad, L'assassino cieco della Hutwood, La quarta verità di Ampers, Guardaroba perfetto di Carla Gozzi, MC Beaton, quindi abbiamo i primi tre, che è la quiche letal, la giardiniere invasata, il verenario, e questo credo sia il quinto, quindi mi manca il quarto da recuperare, piano piano lo recupererò, questo è un regalo di Gisella, se non mi ricordo male, Il matrimonio assassino, io adoro questa serie di gialli, perché è leggera, e mi fa morire dalle risate, adoro Agatha, Sara Mago cecita, le cinque persone che incontri in cielo, la giuria di John Grisham, più abbiamo Van Helsing, Il diario del professor Van Helsing, Poi abbiamo Tolkien lo Hobbit, abbiamo L'assassino scrive di notte, non si uccide prima di Natale, la casa degli strani ospiti, e poi abbiamo questa qua, che era un saggio sulla musica, sulle musiche del suicidio, della morte, insomma sempre cosa allegra, e qui da me si trova. Ok, allora, Cime tempestose, Memorie di Adriano, di Margheriti Ossenara, Giorgiana, Questo bacio va dal mondo intero, Rinascimento privato della Bellonci, Coco Chanel, di Alfonso Signorini, troppo fiera, troppo fragile, Miss Potter, Oscar Wilde, il sipario strappato, serial killer, Pollyanna, una lettera per sempre, la sindrome di Hugh Grant, se per un anno la lettrice, poi, Sotto la pelle di Faber, di Vargas, l'uomo dei cerchi azzurri, prima di morire a Dio, trilogia della città di K, sempre della Christoph, ieri, questo, vabbè, questo è, non è un libro, è il volume di gioco, le istruzioni di gioco di Worms per PC, ma di tantissimi anni fa, di Eugenides, le vergini suicide, di pancia di cuore, da ridere, dell'Angelucci, l'insegnante di assinenza sessuale, di Perrotta, che sto a metà lettura, Diaboledo, l'elenco telefonico di Atlantide, il libro di Renfield, che sarebbe la storia di Dracula, vista dal punto di Renfield, è molto bello, White Christmas, di Paolo Prato, che praticamente è un saggio, dove parla della canzone White Christmas, messa a confronto con Candle in the Wind, di Elton John, non mi dite perché, quando l'avrò letto vi saprò spiegare la logica, una scritta sul muro di McCarthy, racconterateci dal Giappone, vino rosso, patate e mele rosse, la soglia, che l'avete visto nell'ultimo book haul, e la sfera dell'indovina, qui a parte un altro jukebox, abbiamo storie di libri, chi è morto alzì la mano di Vargas, le battute del cinema più belle di tutti i tempi, questa è una guida su Parigi, mamma ho perso l'aereo, Ivano di Scott, l'utilità delle cose inutili, i viaggi di Nico e Mina, e questo è Guareschi, la favola di Natale, una bellissima storia, dove la censura è interpretata da un uccellino, molto 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 bella, che infatti sta di qua, invece di stare con gli altri, i Guareschi, la logica, oh mamma mia, la logica di Angela, ora passiamo al caro Martin, l'origine, Wild Card 1, il battello del delirio, il pianeta dei venti, qui abbiamo Martin, che non so cos'è questo, il cavaliere dei sette regni, poi abbiamo il trono di spade, quindi il trono di spade, il grande inverno, il regno dei lupi, la regina dei draghi, Fanil di Cleland, le memorie licenziose di una cameriera, di Octave Mirbo, mi pare, Octave Mirbo, poi non credo che siano in ordine, quindi abbiate pazienza, il portale delle tenebre, giusto sì, i fiumi della guerra, la tempesta di spade, la danza dei draghi, il dominio della regina, l'ombra della profezia, i fuochi di Valeria, i guerrieri del ghiaccio e Angela, ce la fece tutta, il drago di ghiaccio e il re di sabbia, che contiene anche un qualcosa inerente alla serie del ghiaccio e del fuoco, Mille splendidi soli, Jonathan Strange, Miss il signor Norrell e Amori e centrifughe, questi sono i miei libri salvablocco, e sotto abbiamo la mia edizione di Peter Pan, che ho odiato da quando ero bambina, perché non mi piacevano tendenzialmente i disegni, aspettate, questi sono i disegni, a me non piacciono così, ecco, non mi piace, quindi niente, e questi sono i libri che vi dicevo che si è fatto papà, la Bibbia dei bambini, Gli animali più belli, L'uomo e i viaggi, Pirati della Malesia, Cuore, Un ferroviere e mezzo, e questo me lo so preso io su Bookmuch, come collezione, diciamo, Il corsaro nero, queste però sono belle edizioni, perché vedete dentro sono tutte così, cioè sono stupende queste, come devo comportarmi, La scuola della buona Massaia, Il vero re dei cucinieri, ce la posso fare, poi abbiamo il primo libro del bambino, che è un abecedario, e il libro delle puzze di Soson, Ok, il nostro Bookshall Tour finisce qua, e fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, questi come avete visto sono praticamente tutti da leggere, quelli letti non ce li ho quasi più, perché li ho dati via quasi tutti, perché avevo bisogno di spazio, e quindi sono rimasta la mia biblioteca personale, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video, un bacione, Alla prossima!